Con l'articolo 117 si conferma l'ambiente in capo allo Stato, in realtà si conferma perché era stato anche materia delegata e poi con lo sblocco Italia lo Stato si è ripreso. Si porta dalla materia concorrente, cioè decidevano insieme Stato e Regioni, il governo del territorio solo allo Stato, la politica energetica solo allo Stato e non più Stato e Regioni, così per la salute. Quindi mi pare evidente che vi è una grande fragilità e debolezza se dovesse vincere il sì delle regioni e degli enti locali. Gianni Pittella dice che non sarà così, allora chi ha ragione? Dice che rimane in capo alle regioni l'ambiente, la difesa del suolo e del territorio. Allora l'ambiente non era neanche prima in capo alle regioni ma era stato delegato e poi con lo sblocco Italia è stato ripreso e non c'è la difesa del suolo e la difesa del territorio in capo alle regioni. La corazza si conferma una voce dissonante all'interno del Partito Democratico, è una lotta di posizionamento politico o si va sui contenuti reali di questo referendum? Se fosse stata una lotta di posizionamento politico non avrei avuto fino in fondo forse anche il coraggio di navigare verso mani che mi avrebbero portato anche a perdere una posizione di prestigio qual è la presidenza del Consiglio regionale.